Antonio rientra, uccide tutti, dovremmo andare in super spremuta, in cedro anche! Super spremuta! Ma guarda super spremuta, tu ti dà la frenata in dago il bambino! Ma che cazzo va? Ma se mi hai buttato fuori, potremmo passare! Uno di Simo, parte una parattia, parte un'altra parattia di Ulli credo! Simo muro contro Ulli! Cosa accade? E' morto Simo nel gritto! Mi è passato a due caderni davanti! Disastro! E' super simo secondo me, vuoi vedere che lui non sa che non può scontare drive thru in virtual o in safety, lui rientra e ce l'ha comunque! Vado a vedere! No, lui ha drive thru! Ha fatto far dentro super simo! Ok, rallenta, rallenta! Delta negativo! Secondo me, non sa che non lo sconta il replay! Quando c'è la virtual o la safety, non lo può scontare, secondo me lui non lo sa e rientra! Esce ultimo e ce l'ha comunque! Guarda! Sì, sì! Disastro per il benettono! Disastro comunque perché poi lo dovrà scontare dopo! Però... Non prende più spazio! Ah, non rientra! C'è il Delta! Eccolo qua! Super simo! Drive thru! È il leader della fronte! La safety car è in questo giro! Ok, via libera! Ok, via libera! Abbiamo ancora molta energia in riserva! Usa il sorpasso! Non sei posto alla casa! Stai lontano del guardia e tanto la gente si ammazza! È tranquillo! Sì! Devi stare attento alla curva questa qua! È scesa verso destra! È in salita verso sinistra nelle prime curve! Sono le più periodose! Soprattutto quella in salita verso sinistra! Soprattutto quella in salita verso sinistra! Soprattutto! Devi stare largo sul cordolo e poi stringere tutto! Soprattutto del cordolo di destra! Puzzi ha uno 35 e mezzo! Si allunga! Super simo ancora non rientra! Tira all'ultimo! Attualmente rientro! Con dietro c'è una guerra incredibile! King ha passato Reo Redis! Importante per il Championship! Non c'ho nessuno dei miei rivali davanti! In top 5 non c'è nessuno della top 5 Kran MC! Sì! 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 Per me io ho azzeccato l'aspetto migliore! Anche gli altri sono con 2! Riusciranno neanche a passarmi se mi riprenano! In dritto c'è una differenza incredibile! Tra 3 e 2! Problema! Problema! Problema dietro! Credo! Motto! Motto! Motto per Space che naturalmente l'ha fatta apposta! Motto per Space che vanno da l'investigation... Si ferma PK! E' fermato PK! Il PK box già cambia le gomme! Anche se mancano 10 giri sulla strategia Via 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 A presto John, presto Grazie a tutti E' un po' lato. 3 33 e mezzo andrà a prendere pk un premio lì incredibile se le gomme posteriori tengono si può fare il miracolo senza sosta 3 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono già fermati tutti. Non solo io e te, Ciro e Tometici ci siamo fermati. Restano tutti come tre. Il King che vola, passa anche per ora Eric, incredibile. King e Monster con gomme più durate per altri di PK, perché King aveva rosso. Abbiamo sperato che non fuori la posteriore sinistra. 3 di Sicily alla fine, mamma mia. Cerco una sessia, adesso posso uscire davanti 33.2 Smegor Spinnata pazzesca Superato il 50% con la gomma posteriore sinistra Quanto? Speriamo che duri fino a 60 Sì, sto degradando, cominciano a finirellare Pazzesca, ripresi un secondo Durate pure lui, un po' meno rispetto a noi Però, questo lui non si può durare tra un po' Arriva Smegor che passa l'aereo Eddington Oh, Setticar, che sfiga Come mai Setticar? Delle ali, ah Seltza Delle ali per Teomettics Rientra, sì sì Vabbè, io mi sempre sono fregato, provo ma Esco Esco dietro Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF No, credo delle ali Ricevuto, va bene Magari sono in tre storie E' ancora un po' in punta Ecco Abbiamo visto King, ha passato Teomettics Si smengono, ha passato Teomettics E c'era bandiera gialla In questo senso, eventualmente Ha successo qualcosa Sì, sì Adesso avrai in più gomma nuova Perché magari Quelli davanti non fermate Però non ho un po' curata Ok, rallenta, rallenta Delta negativo Vuol dire che stai andando troppo veloce Rallenta Allora, prevediamo una perdita d'aderenza tra pochi minuti Fa attenzione Un po' piacere, vediamo Siamo al limite penso con P.K. e King Fit Perfetto, vediamo Via Ah, ci hanno copiato Anche King e P.K. rientro Attenzione Allora Simo Attenzione Allora Simo che non si ferma Simo al limite con MC Abbiamo effettuato tutte le sosse Abbiamo effettuato tutte le sosse Ah, porto di salotta Esco davanti Sì Sì, perfetto Perfetto davanti a Simo Magnifico O Simo tra me e Ciro E King e P.K. Strategia perfetta anche per Brian oh c'è un botto c'è un botto pauroso c'è un botto pauroso un disastro per Ciro c'è un disastro per la Foward sempre davanti poi ha buttato via tutto per una ripartenza ma Brian attacca è il momento di attaccare otto giri alla fine ci sono già switchate le Onix dovrebbe essere rientra oh King King che rischio incredibile King che rischio incredibile grazie a tutti che ha trapassato Pichéi su cima che ha cominciato un gran passo si attacca basta che smego su Simo Matteo lo vedi? non attaccalo non puoi attaccalo mettiti all'interno prima della staccata così lui pena costretto dalla scia dell'avversario non è vero non è vero non è vero oh King di nuovo come in Brasile mi butta fuori in ghiaia anche ma cosa combina? ma è un passo ma dai mi ha rotto il fondo mi ha rotto che stupido sono sei secondi appreso per spaccarmi il fondo come in Brasileo ma rivaglie mi riviene contro mettilo sotto pressione facciamogli commettere un errore non mi sono danneggiato l'anteriore destra e il fondo non mi sono danneggiato l'anteriore destra e il fondo ma che è un tapis di sta bene bravo passalo il fondo danneggiato non mi fa spiegare a pieno vediamo che il fondo scocca sia un po' rovinato ma niente di serio è danneggiato quando si è allacciato la seconda volta ma non sta a sorpassare King perché si appoggia sugli altri perdo tantissimo nell'ultimo settore la macchina non gira bene troppo comodo troppo comodo dai siamo fuori nooo non ci voleva ci voleva ok rallenta rallenta delta negativo danneggiato e andando troppo veloce rallenta no no la camuffa la camuffa drive thru drive thru passaggio obbligato dai box la gara rovinata la gara rovinata la gara camuffata drive thru a 3 giri dalla fine la gara rovinata ma non è possibile però ma è baggato sul dritto scusami ma si è baggato sul dritto ma non lo so perché mancano 3 giri mancano quando lo sconto accelera un po' per favore devi essere a una distanza massima di 10 auto dalla vettura di precedente ah perdone questa colpa di King mi ha fatto distrarlo ah la camuffata guarda ruba Oh Che fa Mi si è stoppata la macchina Quella manovra era irregolare, restituisci la posizione E allora sei un imbecile Il distacco da quella dietro è in 4,1 secondi Ah, vaffanculo, vai finge, va a cagare Andiamo sulla gara Che gare, vai Manca il stretto di uscita, manca il stretto Va a cagare, vai Volevano riaprire il championship, l'hanno riaperto Poi Che no lo dia Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ok via libera Forse finisco a punto Inizio P.K. alla prima gara fatta Inizio P.K. alla prossima 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 Inizio P.K. alla prossima